cari amiche ed amici della grande guerra in cinque passi buonasera in diretta su youtube per la prima volta vediamo se anche questo sistema è interessante inauguriamo le trasmissioni in diretta parlando di un oggetto molto importante per la prima guerra mondiale che in un certo senso ha influenzato l'immaginario collettivo non solo della prima guerra mondiale ma anche quello degli anni successivi e che spesso viene identificato con diciamo dei regimi non particolarmente democratici anzi dittatoriali ma che per un certo senso ancora adesso fa parte del design militare più importante ce l'ho qua è un oggetto veramente emozionante interessante quando lo si tiene in mano è un oggetto che ha combattuto quindi è stato trovato i campi di battaglia per cui è stato indossato da qualcuno che ha combattuto sui campi della prima guerra mondiale e è un oggetto molto 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 evocativo stiamo parlando in particolare e ce l'ho qua dello stahl elm eccolo qua potete ammirare in tutto il suo arrugginito splendore stahl elm che significa elmo d'acciaio fantasia tutta teutonica lo stahl elm è una produzione tipica della germania del primo conflitto mondiale voi direte ma sembra un elmetto della seconda guerra mondiale in effetti venne utilizzato successivamente durante la seconda guerra mondiale dall'esercito dalle truppe nazionalsocialiste da qualsiasi colpo militare paramilitare della germania nazionalsocialista del terzo reich non solo il suo design ha ispirato anche realizzazioni più recenti ma andiamo con calma lo stahl elm venne prodotto a partire dal 1916 partiamo con ordine i primi a diciamo realizzare un elmetto d'acciaio furono i francesi i francesi nel 1915 esordirono con elmetto adrian l'adrian m 1915 modello 1915 furono i primi a rendersi conto che sul campo di battaglia l'assenza di copricapi che proteggessero la testa dei soldati poteva portare a gravi ferite a diciamo a diminuire il numero di soldati disponibili proprio anche per cause che potevano essere evitate quindi vennero escogitate vennero progettati degli elmi in metallo che erano in grado di proteggere la testa visto che la maggior parte delle ferite che mettevano fuori combattimento i soldati si verificavano proprio sulla testa naturalmente sui campi di battaglia non c'erano solo le pallottole anzi le pallottole in realtà erano uno degli elementi meno pericolosi nei campi di battaglia sembra una cosa strana però alla fine è così sul campo di battaglia si moriva soprattutto per i colpi d'artiglieria colpi d'artiglieria che provocavano schegge di metallo sparavano in aria pallette di piombo pallette di ferro scheggioni di ferro e soprattutto che mandavano in giro una quantità di frammenti incredibile magari anche di pietra specialmente durante la guerra in montagna e questo poteva provocare delle ferite notevoli al capo dei combattenti naturalmente le ferite al capo erano quelle più gravi e quelle che potevano mettere fuori combattimento più facilmente i soldati quindi tutti gli stati maggiori si misero a progettare una soluzione i tedeschi furono quelli che ci arrivarono per ultimi perché in effetti i francesi ci arrivarono nel 1915 e gli inglesi subito successivamente con l'elmetto Brody quella famosa scodella i tedeschi studiarono fino al 1916 però arrivarono a una soluzione veramente molto avanzata prima dello Stalem cosa avevano i tedeschi avevano il famoso picke laube vale a dire quel copricapo con la punta uno può dire ma quello non era nel metto no quello non era in realtà nel metto perché era un copricapo appunto in cuoio in cuoio bollito che effettivamente gli dava una certa resistenza ma non aveva proprietà balistiche cioè non poteva fermare schegge e proietti schegge metalliche e proiettili di piombo diciamo che il picke laube era stato sviluppato più che altro per i combattimenti ottocenteschi e in effetti secondo alcuni la punta del picke laube non era solamente un ornamento o meglio era anche un ornamento ma aveva la funzione di deviare i colpi di eventuali armi da taglio quindi sciabole o spade che fossero stati vibrati sulla testa dei soldati prendetela con le pinze logicamente però questo fa capire come si trattasse di un copricapo che non aveva nessuna utilità nella guerra in trincea ma nessuno si aspettava la guerra di trincea o nessuno era in grado di capire cosa sarebbe significato combattere in trincea quindi oltre a avere appunto questo puntale e il picke laube aveva una serie di modanature in ottone che lo rendevano bellissimo esteticamente ma anche facilmente visibile sul campo di battaglia e questo naturalmente in un contesto in cui bisognava stare bassi sul terreno evitare di salire per farsi colpire non aiutava per niente in effetti il primo la prima cosa che si fece per diminuire la visibilità dei picke laube fu quella di utilizzare i cosiddetti teli mimetici per cui si copriva il copricapo con un telo opaco che doveva evitare di riflettere il sole il secondo provvedimento che venne preso fu quello di svitare il la punta perché ovviamente in trincea probabilmente si impegnava dappertutto e rappresentava comunque un ostacolo il terzo provvedimento fu quello di sostituirlo con lo stale dopo che questo venne progettato e venne in qualche maniera pensato nella sua forma definitiva la sua forma definitiva ovviamente non è una forma casuale guardate se io me lo metto in testa ecco come vedete qua dietro vedete che arriva a coprire quasi tutto il collo copre tutte le orecchie e da una copertura della testa molto buona allora quando si parla di oggetti militari non è che bisogna pensare cosa è meglio in assoluto e cosa è peggio bisogna pensare quali sono i vantaggi quali sono i pregi quali sono i difetti se noi parliamo ad esempio dell'adrian l'adrian aveva il vantaggio di lasciare le orecchie scoperte che è un vantaggio specialmente quando si tratta di combattere e di sentire quello che sta accadendo sul campo di battaglia oltre che vedere diciamo che da una consapevolezza della situazione tattica sul campo di battaglia molto migliore il vantaggio invece del dello stale è quello di essere estremamente protettivo cioè lo stale copre la maggior parte della testa del soldato garantendogli la protezione massima possibile e garantendogli anche al contempo una buona visibilità perché grazie a questa visiera io sono in grado di vedere un campo visivo piuttosto ampio davanti a me uno svantaggio di questo stale che venne lamentato da tutti i soldati è il rimbombo se io parlo mentre vi sto parlando sento mi sembra di essere come in una campana basta toccare così e sento veramente dei suoni rimbombanti proprio perché parlando qua le onde sonore balzano per cui immaginatevi cosa vorrei dire sul campo di battaglia sentire tutti gli scoppi praticamente raddoppiati in effetti molti soldati ci posero il rimedio facendo questo in questa maniera qua lo stale era molto più stabile oltre che spingere in fuori le orecchie era molto più stabile molto più leggero e soprattutto non si verificava quel fastidioso rimbombo che vi dicevo prima al di là di questo però vediamo nei particolari come era realizzato questo stale ogni stale aveva questi due rivetti questi che vedete qua a cosa servivano servivano per la reazione erano dei buchi passanti attraverso cui circolava l'aria e che consentivano appunto di diminuire la temperatura della testa del soldato all'interno dell'elmetto l'elmetto era poi completato da un'imbottitura in cuoio che quindi faceva spessore e evitava ferimenti del capo in caso di contatto e che appunto doveva garantire un minimo di comfort proprio per la testa del soldato che lo portava dopodiché vedete che oltre ai due rivetti principali ha una cosa importante è che questi due rivetti venivano utilizzati anche per la cosiddetta stirn panzer vale a dire una corazza frontale aggiuntiva che doveva consentire di rinforzare la protezione sulla parte frontale allora l'elmetto pesa circa un chilo pesa circa il doppio dell'adrian quindi è diciamo c'era tanto materiale dentro questo elmetto e questo consentiva insomma di avere un elmetto di ottima qualità e era l'elmetto più costoso che c'era disponibile per gli eserciti impegnati nel conflitto la stirn panzer pesava addirittura due chili e mezzo e doveva garantire una certa protezione da tiri frontali ecco questo genere di elmetti qua difficilmente poteva resistere a un tiro diretto di un fucile più che altro proteggeva dalle pietre proteggeva dalle schegge d'artiglieria dagli shrapnel e da quei materiali volanti che potevano capitare in trincea ma che comunque insomma rappresentavano potevano rappresentare un grosso pericolo per i combattenti la steam panzer appunto veniva posizionata qua e veniva agganciata proprio sui due rivetti non venne mai utilizzata dalle truppe d'assalto diciamo e neanche dalle truppe di fanteria durante gli assalti proprio perché pesava troppo però probabilmente venne utilizzata dai mitraglieri e dai cecchini perché garantiva una protezione addizionale in caso si sporgessero e diventassero un bersaglio per i tiratori nemici oltre a questo sullo stalen vedete che ci sono altri due rivetti qua questi dovevano servire a tenere in posizione le fibbie per il soggolo e appunto il cerchio metallico che serviva per mantenere fermo l'imbottitura interna dalla posizione di questi rivetti qua siamo in grado di capire da dove proviene l'elmetto che abbiamo sotto le mani in particolare questo è uno stalen prodotto in austria nel 1917 quindi su disegno originale tedesco ma fatto in austria con alcune piccole modifiche ad esempio proprio la posizione del rivetto ci dice che questo austriaco perché se fosse stata più bassa sarebbe stato un elmetto prodotto in germania se fosse stata più alta sarebbe stato un elmetto ungherese poi ci sono alcuni modelli diversi di rivetti che differenziano l'anno insomma ci sono alcune cose che possono dirvi dove è stato prodotto il vostro elmetto se ce l'avete o se ne avete sotto mano uno poi ci sono delle stampigliature all'interno qua sono sparite che possono aiutarvi per identificare il vostro stalen comunque fondamentalmente a partire dalla foggia germanica nel 1916 vennero prodotti in gran quantità vennero distribuiti agli alleati e poi gli alleati cominciarono a produrli in proprio l'austria ungheria dal 1917 produsse i propri tipi alcuni su diciamo disegno tedesco altri come il berdorfer che è molto famoso su disegno proprio però bene o male la foggia era sempre la stessa nel 1918 per esempio venne introdotta qualche modifica sul disegno tedesco in effetti si pose rimedio al problema fastidioso dei rimbombi facendo dei piccoli svasi nel elmetto stesso quindi praticamente si lasciavano parzialmente scoperte le orecchie vediamo un attimo per quel che riguarda dei colori imparata la lezione con gli sgargianti piche laube si cominciarono a utilizzare dei colori effettivamente mimetici all'inizio il semplice felgrau o il verde militare quindi grigio o verde gli austriaci iniziarono ad adottare ad esempio il marrone questo probabilmente era di colore marrone anche se ci sono alcune chiazze di verde insomma è difficile capirlo ma o uno o l'altro nel 1918 mano a mano si cominciò ad utilizzare delle vere e proprie camo cioè delle proprie vere e proprie camuffature delle proprie vere e proprie mimetiche che sono interessantissime perché in un certo senso sono anche influenzate dall'arte del tempo e sono quelle classiche che vedete a poligoni no separati da linee nere fatte con i vari colori che di solito sono colori autunnali insomma venne emanata una direttiva apposita da indenburg che era il capo delle forze armate in cui si specificava che appunto bisognava utilizzare dei colori che fossero stagionali e che quindi andassero bene con la stagione in corso e separati appunto da queste linee diritte e larghe circa un dito e scure questo doveva servire un po a spezzare l'immagine del dell'elmetto da lontano e a renderlo irriconoscibile o camuffato ecco in effetti questo elmetto poi venne utilizzato pari pari anche nella seconda guerra mondiale con una foggia leggermente diversa un pochino più accorciata che quindi copriva meno ma comunque manteneva la forma utilizzata all'inizio e e vi dicevo appunto che sopravvive tutt'oggi in effetti non forse non ci facciamo tanto caso ma se voi guardate gli elmetti in kevlar ad esempio dei soldati statunitensi quando sono impegnati in operazione all'estero ma anche gli stessi nostri soldati qualsiasi nazione nato utilizza degli elmetti in kevlar che hanno delle forme molto 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 ma molto simili a queste questo perché in effetti questa forma qua è quella che è più funzionale di tutte perché garantisce protezione perché garantisce la capacità di guardarsi intorno e perché appunto è quella più comoda e quella che sul campo di battaglia si è rivelata la migliore in effetti qualche modifica fu effettuata per compiti particolari per esempio nella seconda guerra mondiale i fan schier jäger i paracadutisti tedeschi della germania del terzo reich crearono una versione ridotta accorciata e modificata dello stalen che appunto vedeva una riduzione della visiera e una diminuzione della parte protettiva delle orecchie proprio per migliorare diciamo i compiti di assalto delle truppe paracadutiste tra l'altro e lei delta forse le varie truppe speciali adottano nel meteo in kevlar che è molto simile a quello dei fab schier jäger quindi c'è un passaggio praticamente diretto appunto dal vecchio elmetto tedesco della prima guerra mondiale fino agli elmetti utilizzati nei giorni nostri questo a testimoniare quanto fosse moderno lo stalen quando uscì non solo materiale non solo quantità di materiale ma anche design un design che appunto in qualche maniera sembra essere immortale visto che ha più di un secolo e che ancora adesso appunto sembra corrispondere alle esigenze degli eserciti sul campo di battaglia bene con questo ho finito spero che il video vi sia piaciuto magari lasciatemi un commento oppure insomma sì cercate di fatevi sentire insomma anche sul canale e niente alla prossima diretta ciao a tutti